ragazzi ciao a tutti workout di oggi martedì 5 maggio abbiamo da completare 8 round composti da un DT un complex da eseguire con dumbbell o backpack unbroken più ogni giro 20 pistol o 20 goblet squat cioè squat con in mano il vostro dumbbell il round DT è una concatenazione di movimenti abbiamo deadlift hang power clean e spinte nel caso in cui io abbia il mio dumbbell singolo andrò a eseguire per ogni braccio un DT ovvero 6 deadlift 5 hang power clean e 4 spinte prima col destro e poi col sinistro questo compone un round se invece ho doppio dumbbell doppio kettlebell o addirittura qualcuno fortunato al bilanciere andiamo a eseguire i classici 12 9 6 deadlift hang power clean e spinte al termine di ogni giro abbiamo detto si deve completare con 20 pistol squat o 20 kettlebell squat il tempo concesso totale sono 25 minuti ci vediamo stasera alle classi e mi raccomando iscrivetevi alle specialità che sono veramente super ciao a tutti